Il numero degli abitanti, le situazioni emergenti, probabilmente è necessario un investimento ancora più grande. Questo significa allora che tutti noi, e io adesso parlo direttamente per la comunità cristiana, siamo certamente pronti a collaborare. È forse finito il tempo in cui la Chiesa Cattolica era, potremmo dire, egemone in questo campo, per cui o facevano quelle cose o si facevano. O comunque anche coloro che collaboravano con l'esperienza della Chiesa, collaboravano avendo sempre come soggetto le istituzioni ecclesiastiche. Questo rimane, ed è il senso della Caritas, però vorrei dire qui, mi sembra in luogo anche, che la comunità cristiana è molto contenta di collaborare anche con altri, se sono capofile di progetti.